un saluto agli amici di taras tv da via giurizzo vi voglio bene un saluto a tutta la redazione di taras tv la tv web dei due mari un saluto agli amici di taras tv non guardate altro taras tv ciao a tutti gli ascoltatori un saluto agli amici di taras tv ciao